E ragazzi, come va? Io sono FieriNiki E io sono Steph, e questo giochiamo Roblox E più precisamente siamo tornati con un Tycoon Ovvero il Game Development Tycoon Che sappiamo che è fantastico Io non ho la più po' l'idea del perché non l'abbiamo mai fatto prima Sinceramente non lo so, ogni tanto compaiono quelle mappe che pensi proprio Ma davvero non l'abbiamo fatta Ma perché non l'abbiamo fatta? Boh Comunque, è da un po' che non facciamo Tycoon Perché in questo periodo ne stanno sviluppando pochi Quindi ci stiamo andati a cercare un po' di Tycoon E abbiamo detto, beh, questo non l'abbiamo fatto Dovrebbe essere fantastico Esatto Portiamolo Credo che dobbiamo fare tipo la nostra fabbrica di videogiochi E partiamo ovviamente da un garage Quindi proviamo a prenderci il nostro bel garage Puoi entrare? Sì, perfetto No, no, aspetta Dimmi È una casa adibita a garage Quindi tu mi vuoi dire che proprio noi dormiamo qui dentro Questa è la nostra casa È il nostro alloggio Sì Comunque ci sta perché mi piacciono i gestionali che poi si espandono Guarda, te lo faccio vedere il bagno Seguimi Seguimi Ok Vieni Sì Sì Qui nell'erba dietro casa Ecco il tuo bagno Puoi scavare Fare i tuoi bisogni E poi ricopri Ma non sono un cane Eh vabbè, ma non ce l'hai il bagno in casa Che pretendi? Che pretendi? Lavora per fare i videogiochi e muoviti Allora Aspetta Mi sa Guarda il computer Cliccando Forza con questi click Mi sembra un po' lenta Eh, mi si sta bloccando la mano Capita? Prenda un po' di pizza Capiamo in basso Ok Dei minigiochi Se tu clicchi Credo che ti metti che stai giocando Lava plates Uh, davvero? Clicca solo una volta Credo che adesso Ma dove? No, secondo me dobbiamo aspettare i secondi Ah, status plane Quando finiscono i secondi Secondo me ci fa fare un minigioco Aspettiamo allora Aspettiamo Credo Non lo so Ti piace la nostra mensolina? È l'unica cosa di bella della casa Sì, esatto È l'unica cosa utile Lua Vuoi studiare il linguaggio Lua? Assolutamente sì Comunque le cose che abbiamo in quella mensolina Aumentano i soldi che facciamo cliccando qua Giusto per chiarire Ah, molto particolare Tu probabilmente non l'avevi capito Sì, non l'avevo capito Perché in effetti è molto diverso da tutti i tech-un Che avevo mai fatto Ricorda più un videogioco Che ce l'ho anche Non mi ricordo il nome Eh, development take-un Mi sa che si chiama Ah, è uguale Sì, 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 sì Ricorda molto quello Che inizi proprio nel tuo stanzino del garage Fai i videogiochi E man mano che fai le cose Esatto Vieni pagato di più L'unico problema è che qualcuno Deve restare sempre lì a cliccare Ma guarda cosa ti prendo adesso Oh, finalmente ragioniamo Allora E cosa serve tutto questo? Posso prendere i muri Ok Le finestre Ok Cosa stiamo costruendo precisamente? Credo un ufficio dove lavorare Più grande Però non è solo proprio sicuro Allora Compriamo Upgrade Upgrade to open Quindi migliorare Cioè bisogna migliorarlo per aprirlo Aspetta Posso assumere del personale E dopodiché Upgradarlo per farli migliorare E farli fare più soldi Oh, è partito il gioco Sì Esatto Che devo fare? Non ne ho idea Lava plates Ok, piano piano stanno scomparendo Ok Mamma mia Ok Ho saltato all'ultimo Sono già quasi tutti caduti però Siamo solo in due Sì Io contro di te Chi si guadagnerà questi 100 dollari? Mamma come si salva Ferinichi Eh sì Ci puoi contare Guarda Oh no Oh no E vabbè Sei rimasto lì? Sì Addio Abbiamo caduto tutti in contemporanea? Sì Ah abbiamo vinto entrambi Abbiamo vinto tutti i 250 Quindi si fa lo spareggio Ok Poi abbiamo bomb survival tra 90 secondi Quindi pensiamo a fare un po' di soldini Clicco velocissimo Quanto ci serve? Dimmi un pochettino i prezzi nella base Aspetta sto andando perché io non spono lì Un po' lontana Mi dimentico quanto sei inutile Tu sei una persona inutile guarda Sì Allora un tavolo da 50 Ok Server room 450 Ok Le scale per il prossimo piano 250 E il personal tablet 100 Tavolino Ok Sedia Ok Sto guardando il tuo monitor Equipaggio Ok Lavoratore Ah ecco vedi? E credo guarda sta lavorando Working Ah vedi Parlando della stessa cosa Vabbè anche lui sì giustamente Bravissimo C++ Che conosco come linguaggio di programmazione Sì sì Poi allora ci prendiamo Vedi il formato almeno è un impianto Che gatto che sta al fatto suo Sì assolutamente Assolutamente Poi abbiamo il manager che sta camminando Probabilmente controlla quelli che lavorano E ha due capelli diversi Vedi? Eh perché magari li voleva neri con le mesh bionde Gli uscita quella cosa lì capito? Eh vabbè non tutti i parrucchieri Stanno a fare queste cose Dove siamo? Dobbiamo sopravvivere alle esplosioni Oh mio Dio Oh mamma mia Bello questo Sì vabbè ma sta esplodendo tutto Sì vabbè un po' eccessivo come bomb survival Stai attenta per favore Personal tablet and blah 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 Click to take tablet Ok 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 No Posso lavorare dal tablet? Oh mio Dio questa cosa è fantastica però Aspetta che lo voglio anch'io Dove sei? È qua E io devo rifarmi sulla strada ogni volta Aspetta Te lo fa prendere? Eh lo spero Sto andando qua No No? Perché io non ho un tablet? Guardami Perché? Perché non ho un tablet? Sono così figo che posso parlare con te mentre lavoro Ciao manager E ho pure un manager Ciao manager Che dice che ti devi andare? L'ho bloccato Guarda Non mi sta schivando Non bulletizzare il manager Manager Non bulletizzare il manager Lascialo in pace L'ho bloccato Non lo farò mai più lavorare Manager È autorizzata a dargli un cazzotto Ok Ecco qua Ma lo fa anche il manager hai visto? Ah sì? Quando mi sta nel suo giro Perché quello non Ma questo l'ha rispaccato già Ricliccaglielo Sì vabbè l'ho già cliccato tre volte Oh Io ti ho detto che questo Quei suoi foglietti sta facendo fuffa Sta facendo pinta di lavorare Allora Ok Posso fare una cosa Che permette di fargli sbagliare Meno spesso le cose Poi Posso fargli lavorare più velocemente Oppure fargli fare Più soldi Ok Quindi li faccio fare più soldi Spendendo 200 dollari Io comunque ti farei notare una cosa Dimmi Da quando mi sono messa a fissarlo Non ha più rotto il pc Li stai facendo paura? Io non vorrei dire Sì guarda Ecco l'ha rotto Appena l'hai detto Ti spacco la faccia Tu non hai capito Che te ne vai da qui eh? Mamma mia Mi sta facendo arrabbiare Ti ha rovinato tutto Mi spiace Però per un sacco di tempo Non l'ha rotto Eh beh Poi ha visto a te Capito E quindi l'ha rimasto Sì 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 dai Di quello che vuoi Perché con te fanno quello che vogliono Vuoi vedere il secondo piano? Sì Vai Ok Prendimi anche il secondo piano Effettivo Aspetta Devo cliccare un po' il tablet C'è il terzo piano Perché c'è già la cosa per le scale Eh vabbè ma diventa gigante Muro Work Cubicle Il cubicolo Cubicolo Poi il coffee maker Ah beh l'essenziale giustamente Riduce il bisogno di dormire dei lavoratori Ma poveri Come noi che ormai abbiamo ridotto tutto al minimo Vi capiamo Vi capiamo Assolutamente sì Facciamo molti più soldi Ah sì? Sì 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 Li combiniamo ed esce una figata Esatto Eh guarda quanti soldi stiamo facendo Almeno sei utile a qualcosa Che bello Ci siamo fatti duemila Allora ti compro Questa bellissima panchina Ok Cosa me ne faccio? Un tavolino Che ce ne facciamo di queste cose ragazzi? Un cestino Per estetica Il pavimento Fence Fence E la cosa Guarda che bellina La signa Mamma mia incredibile Guarda Oh Steph 23 17 business E mi sembra giusto Mamma dai è bellissima E mi sembra proprio giusto Poi qua c'è un'altra strada Ok Va bene Stop No ma è fantastico Possiamo credo Questo è per frenare Capite? Sì possiamo credo Arrivare fino alla zona parcheggio Ma pure anche comprare la macchina Sì ma costa 3500 E vabbè costa tantissimo Quindi la vediamo dopo Poi compriamo l'equipaggiamento E il nuovo lavoratore Sì comunque il manager serve a quello Serve ad aggiustare i computer Quando si rompono Eh te l'ho detto Te l'ho detto Che quando passa li aggiusta E almeno è utile L'hai pagato un sacco Mi sembra Mi sembra giusto che faccia qualcosa Lavoratori tutti al completo Sono tre da una parte E tre dall'altra E per ora non fanno una ceppa di soldi Devo essere sincero Non è che E vabbè magari prima o poi Ne faranno Che ti devo dire E il server room è qua? Guarda si va sotto terra Oh ma scherzi È bello Allora Shelf Che posso permettermi Server 50 Non è che fa soldi nel tempo anche questo? Molto probabile Forse qua prendendo un tavolo Viene uno che lavora qui Potrebbe essere Eh può essere Può essere Non lo so Allora Vediamo un attimino sopra Mi prendo tutti i soldi che hanno fatto Ti dico solo che hanno fatto mille Che posso Mica male Mica male Collezionare Lobby più server room Il server room sta facendo un sacco di soldi eh E allora sto ad aggiustarli Sì 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 Assolutamente Poi Facciamo un upgrade In modo tale che spacchino meno le cose Così almeno teoricamente dovrebbe andare un pochettino meglio Te lo aggiusto io il computer caro Allora Aggiungiamo la seconda Ok Guarda Boom Boom Quanto costano ancora? Boom 8 server vai Eh vabbè Guarda Vai per i nichi Facciamo il tifo per te Guarda quanto si rompono Aiuto Clicco tablet Ah ecco Poi arriva qualcuno Guarda il cappellino Vediamolo al lavoro Aspetta È molto annoiato Guardalo Guardalo È molto annoiato lui Guardalo L'aggiusta Ok Aggiusta anche quello Aggiusta quello sopra C'è proprio così Eh amico Però si sono rispaccati Non è che te ne vai dove vuoi tu eh Ma non è che funziona così qua Bisogna lavorare bene Amico Ti do un cazzotto Stanno rompendo tutti Scusami Abbiamo i server in tilt Wow E quindi Ma questo è professionale Guarda com'è professionale Eh ha pure le Capito Le infografiche disegnate Prodotti per fare Il più soldi possibile Ecco Che ci deve essere scritto Non lo so Non lo so Bravo Però mi sembri Sulla lunghezza d'onda giusta I soldi piacciono a tutti Quindi se trova delle strategie di marketing Che ci facciano fare più soldi possibili Noi siamo felici È vero È vero È vero Sto assumendo un sacco di lavoratori Guarda questo quanti soldi c'ha Guardalo lì nella scrivania Ma ce li è pure nella scrivania Proprio a dimostrare quanto guadagna di stipendio E ti fari notare una cosa Sì È senza maglietta O tu lo vedi con la maglietta No no la vedo con la maglietta Io lo vedo senza maglietta e con i soldi nella scrivania È fantastico Ti giuro Tu immaginatelo Prende meglio Sì sì Nella mia versione Solo con i pantaloni È pieno di soldi A petto nudo Server finiti Ok 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 Ma quanto si prende di pausa Stiamo a fissarlo Stiamo proprio a fissarlo Senza cliccarlo Amico Secondo me se non lo riclicchi Non riparte mai Ma non avrebbe senso Perché allora fai tu il lavoro al posto suo Esatto No? Sei ripreso Oh no sei ripreso Ok Dai era giusta come pausa Il tempo di farci una partitina Clash Royale E poi riprende Esatto esatto 17.000 da spendere Divertiamoci un po' Divertiamoci nella nostra bellissima Vieni un attimo Ho visto una cosa Sì Guarda Ha fatto il primo investimento 1.076 Bello Bravissimo Non è tantissimo Ma siccome Ma che non è tantissimo È tanto Eh sì Ma sei a 16.000 Vabbè Vabbè Non è che sia così Però Allora Solo lui Partiva da un dollaro Quindi ci potevano potenzialmente capitare anche due dollari Direi che 1.076 Grazie Non è male come primo investimento Esatto Bisogna essere Propositivi Allora Camera Le serveglianza Ok aspetta Ma per controllare forse che tutti lavorino Giusto Cioè No Se clicchi vedi Le telecamere varie Ho fatto exit camera E sono uscita fuori dall'ufficio Guarda Aspetta Abbiamo un poliziotto Con tanto di pistola E capellino Ma questo mi sembra un po' eccessivo Dai Eh no Siamo pur sempre in un'azienda No Comunque Ma no Può venire qualcuno a spiare le nostre idee Ma no dai Bisogna difendere tutto Poi Design Che cos'è questo Fateci vedere un pochettino No ma si mette a disegnare qua Guarda che bravo Vieni a vedere Aspetta Mi sono persa Eccomi Eccomi Vieni Cosa Guarda che bravo Guarda che bel disegno E vabbè ma che bel progetto Che poi se ci fai caso Il tecun che stiamo costruendo Esatto Avremo anche la fontana fuori Non lo sapevo Guarda mi ha fatto un ritratto È inquietante E poi come se non bastasse Ok Pure all'ingresso Bisogna Un posto dove fare tutti i soldi Che bello slogan Guarda che bello slogan Guarda sto aggiungendo le telecamere La vedi? Giusto Sì Così non può più entrare nessuno La sorveglianza posso metterla anche qui Quindi un'altra telecamera anche in questo piano Perché così non entra nessuno Soprattutto nei server Secondo me è importantissima Quindi la vado a mettere immediatamente Vieni un attimo Vieni un attimo Sì Ho notato una cosa Vieni qui sotto Ok Guarda qui Sì Perché abbiamo l'adesivo della polizia Attaccato al vetro City of Roblox Accidenti oggi non riesco a parlare Poli department Perché stanno dicendo che C'è un impiegato della polizia Che lavora qui dentro Quindi devi stare attento A quello che fai Capito Telecamera Green screen Oh vabbè Recording Attori Ma pure Ma pure No Cioè ma scherzi No Non puoi prendere l'ultimo Eh già Guarda Allora mi ci siedo io con loro Scusate Dai che recitiamo tutti assieme Io però non so giocare Ma esattamente che film stiamo facendo No perché qua dietro c'è un mitra Delle mine Io lo so Banconote Io lo so GTA Un film su GTA Un film su GTA Dato che siamo un'azienda di videogiochi Facciamo i film sui videogiochi E questo è un film su GTA Bellissimo Perché vedi c'è il poker Le pistole I mitra I soldi Mi sembra giusto che sia GTA È tristissima Ma dai almeno fammi una posa Un qualcosa del genere Ma questo ti sembra un boss Cioè guarda Sono più boss io del boss Cioè non si può Che delusione Che delusione Allora da fuori è finito tutto Rientriamo dentro Diamo uno sguardo al volo Allora Cioè piano terra Tutto fatto Piano del server Tutto fatto Primo piano Tutto 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 fatto Secondo piano Tutto 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 Fatto Ultimo piano Tutto fatto Se vuoi metterti a recitare un pochettino con loro Fai pure Fai quello che vuoi Ok grazie Mi metto a giocare qua Guardami Eh sì Bellina Aspetta ti riprendo con questa telecamera Grazie Bellissima Bellissima E siamo startati il minigioco Antipatici Vabbè facciamo l'altro qua Comunque Comunque abbiamo finito tutto Esattamente Speriamo che vi sia piaciuta un po' Una delusione La statua finale Perché per quello che costava Potevano Darci qualcosa di meglio Meglio Però Comunque Un taekun Che merita davvero Di essere giocato Perché C'è della programmazione C'è Diciamo Dell'intelligenza C'è qualcosa di diverso Da un classico taekun Quindi Noi quando sono così Li apprezziamo un sacco Speriamo di trovare altre mappe del genere E ci fermiamo così Beh ragazzi Se vi è piaciuto Dici un giocatore Stateci un bel like E se la prima volta Che vedete un nostro video Potete considerare L'idea di iscrivervi Per non perdervi gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao 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 Grazie per la visione!